Ciao, come state? Io sto benedetto. Lasciate un mi piace e iscrivetevi al canale. Sta registrando. Bella a tutti ragazzi, io sono Empirica James e benvenuti in questo nuovo video sulle cose giapponesi. Sono giapponese. Sono giapponese. E quest'oggi vi farò vedere i prodotti che mi sono arrivati della Tokyo Treat, che praticamente sono cibi giapponesi, molto strani, molto, molto buoni. Vediamo il cuscino. Apriamo la scatola. Allora, nella scatola troviamo esattamente questi prodotti, che sono ciniche, perché questa qui è la scatola per la più cifra, perché sono poveraccio. Allora, queste qui sono le oratine al wasabi. Super piccanti. Super piccanti al wasabi, che a me non piacciono. Neanche a lui. Neanche a lui. Queste qui sono le caramelle al mango. Queste qui, molto buone. E io vi devo dire che i prodotti li ho già provati prima di finire. Queste qui sono le anguriette, che hanno un profumo delizioso, sanno esattamente da anguria. Queste qui sono dei cereali per il latte. Veramente speciali. E poi... E poi ci sono questi, che sono i crisini, molto simpatici. Ciao, 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 ciao. Ok, come prima cosa proviamo i cereali. Sono buoni invece. Se li mettiamo un po' nella... Ma... Ok, i cereali sono esattamente questi. Sono veramente buonissimi. Ciao. Buonissimi. Li ha approvati anche lui. Il voto, che voto li dai da 1 a 10. 100 miliardi. Quindi sono veramente buonissimi. Ok, andando avanti proviamo i cioccolatini al mango. Stavo facendo una cosa. Che ne è rimasto solamente uno. E questo è buonissimo. Proviamo le caramelline all'anguria. Non so cosa c'è scritto, però... Sembrano veramente ottime. Ma di già sentite? Vabbè, facciamo sentire anche a Gabriele. Questi qui sono molto buoni. Ciao. Io sono ancora Gabriele di prima, sapete? Ancora Gabriele di prima? Sì. Li mangiavamo una caramella all'anguria. Vai, mangia la caramella all'anguria. Mmm! C'è un sacco d'anguria. Proprio tanto. Voto finale? 100 migliaia. 100 migliaia. 10, 100 migliaia. Capisco. Ok, caramelle all'anguria approvate. Adesso andiamo con questi cosi qua. I grissini. Questi qui. Ma non sto mangiando i palatini. I grissini. I grissini? Sì. I grissini sono buoni. Sono misto tra dolce e salato. Sono sempre Gabriele, sapete? E io vuole il barriacina. Vi ricordate di me? Dai, mangi. Mangia l'anglissina. Mangia l'anglissina. Com'è? 100 migliaia. Anche questo? Ti piace tutto? E' veramente finora tutti i prodotti assolutamente ottimi. E andiamo con il pezzo forte. Le patatine a wasabi. Vuoi essere da me anche tu? Mh. Adesso andiamo una patatina. E' wasabi. Io wasabi l'olio. Ma non l'ho sentita. E' stia fai. E' stia fai. E' stia fai. Non vedi putare, Gabi. Sputta. Sputta. ok queste patatine wasabi fanno proprio schifo sono orribili nel senso se non vi piacciono le cose piccante il wasabi ha proprio un gusto strano e ragazzi spero che questo video vi sia benciuto tanto sono tutti prodotti buonissime tante patatine wasabi penso prenderò ancora questa test ditemi se questa sera vi potrebbe piacere mi diverto tanto tanto posso assaggiare tutti i prodotti a tutti e alla fine mi danno un sondaggio e va bene ragazzi lasciate mi piace iscrivetevi al canale vi ricordo di commentare di condividere fare quello che volete di questo canale e comunque è bellissimo perché non c'è anche il canale però sono anche questo ciao alla yumasha fuori ciao ciao ciao